Il corteo storico per lo scoppio del carro è uno dei protagonisti insieme al brindellone della festa, della tradizione. Quindi il piano di sicurezza prevede alcune norme e tutti i personaggi del corteo hanno ben consapevole il fatto che dobbiamo rispettare le norme prima come cittadini e poi anche come protagonisti di questa bella manifestazione. Norme di sicurezza un po' più restrittive per lo scoppio del carro di quest'anno con lo spazio antistante e la basilica interdetto per chiunque transennato lo spettacolo non ne risentirà né convinto il direttore del corteo storico della Repubblica Fiorentina Filippo Giovannelli che rassicura garantisce un corteo protagonista come sempre anche se con l'ubicazione leggermente modificata nella piazza. È un onore partecipare a questa tradizione che avviene da così tanto tempo che alcune norme di sicurezza non possono sicuramente togliere il vero valore della tradizione popolare dello scoppio del carro. Quindi il corteo storico è sempre a disposizione per tutto quello che succede all'interno del mondo delle tradizioni popolari fiorentine e anche questa volta siamo consapevoli che pur rimanendo all'interno delle nostre norme di sicurezza faremo un bello spettacolo e una bella presenza come sempre.